Allora dovremmo esserci, vediamo un attimo, aspettiamo che qualcuno ci scriva qualcosa. Io intanto entro su Bridge, ecco buonasera, vediamo chi è che scrive. Allora noi aspettiamo come sempre che arrivino un po' di amici, scrivete mi raccomando se siete in linea scriveteci così sappiamo che ci siete. Io vi leggo dal cellulare. Allora Patrizia di Luce, Mirella Greco, ok, vediamo un po' chi si connette. Erika Peralta, buonasera. Buonasera. Roberto Foschi, ciao. Ciao Roberto, Roberto è un amico che ho conosciuto anche fisicamente. Bello. Mirella dice sono emozionata io. Mirella sei una persona meravigliosa, ne approfitto per dire che non avevo ancora avuto modo. Ha permesso anche che noi ci conoscessimo, eh? Eh, ha avuto questa intuizione. Ha avuto una buona intuizione. Ne sono grato. Anna Tatti, ciao, buonasera. Mirella Greco, ti c'è anche tu. Grazie. Allora, noi aspettiamo ancora che arrivino un po' di gente. Scrivete così, io mi rendo conto quanti siete e così possiamo cominciare. Stella, Torraco, ciao Andrea. Ciao Stella, Stella è la moglie di Roberto. Scrivete così. Ah bene, bene. Per cui, sì. Sono squisiti tutti e due, veramente. Ok. Allora, io direi di cominciare a presentarti, eh? Anche perché poi chi non sarà presente stasera in diretta ci vedrà indifferita. E quindi sono momenti preziosi che non voglio perdere. Perché le cose che tu dirai stasera sono cose veramente belle, stupende, che emozionano. A me soprattutto emozionano tanto per il contenuto e quindi non voglio perdere neanche un minuto, perché un'ora è poca. Tu ti preoccupavi che un'ora era tanta, un'ora è pochissima. Un'ora è pochissima. Sembra sempre di avere così poco da dire. E infatti, infatti. Allora, io vi presento Andrea Pasotti, che è un ricercatore, uno studioso e uno scrittore. E stasera ci parlerà veramente di bellissime cose. Io intanto ve lo presento perché lui ha scritto anche questo libro, NDE, che è la prova della sopravvivenza. Cioè, un libro, ma grande, grande, pieno di testimonianze, di studi scientifici, che io ho avuto in regalo da lui e ti ringrazio. È stupendo. Leggo un attimino quello che c'è scritto qui e condividiamo questo scritto. Allora, posso? Posso, sì. Uno scritto che nasce dalla volontà di fare il punto della situazione sulle esperienze di premorte, ad un quarantennio dalla loro diffusione ed ampia conoscenza presso l'opinione pubblica, grazie al bestseller di Moody. Tenendo conto anche del fatto che, verosimilmente, esse rappresentano la fenemologia più importante e specifica a suggerimento, se non a dimostrazione della sopravvivenza di un quid alla morte fisica. Il che, nei nostri tempi di imperante materialismo, nell'establishment culturale scientifico, assume una particolare rilevanza, di più ancora se, con dono di sintesi, le si sa considerare assieme ad altri fenomeni significativi, come suggerite nel testo stesso. L'interesse dell'autore per le esperienze di premorte si desta attorno ai vent'anni. Dopo una crisi con la cultura cattolica di provenienza, scopre il mondo parapsicologico, grazie all'enciclopedia L'Uomo e l'Ignoto. La maggiore opera italiana sul tema, iniziando un lungo e proficuo rapporto epistolare col professor Giorgio De Simone, presidente del Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli e massimo esponente della Parapsicologia di Frontiera, nonché dell'alta medianità in Italia. In quest'ambito di ricerca ha avuto scambi con numerosi studiosi italiani, come Silvio Ravaldini, Stefano Beverini, Giorgio Cozzi, Giovanni Giannuzzo, Daniele Gullà, Michele Di Nicastro, Fulvia Gariglia, Cecilia Magna Nenzi, Umberto Ridi, Massimo Biondi, Franco Roll, ma anche coscettici come Massimo Polidoro. È stato pure in contatto con ricercatori internazionali, come Sam Parnia, Prim Van Lommel, Mario Boregard, Jenny Solden, Titus Rivas e Dean Reddin. Spero di aver pronunciato bene, perché io sono naschiatta con le lingue straniere. Di primaria importanza è stata l'ultraventennale amicizia col pioniere della metafonia mondiale, Marcello Bacci, grazie al quale ha potuto persuadersi in prima persona della realtà dei fenomeni paranormali, alcuni dei quali fortemente indicativi di una sopravvivenza alla morte fisica, dunque dell'attendibilità di un dualismo interazionista tra mente e cervello. Grazie, bellissimo, guarda, bellissimo. Questo è sul mio comodino, lo leggo lì. Allora, cominciamo perché il tempo stringe. Allora, hai scritto un libro importante, importante, sconvolgente anche oserei dire. Come nasce tutto questo? Ma, senti, nasce dalla presa di coscienza intorno al 2015 che le esperienze di prima morte potevano essere il fenomeno più indicativo a suggerire il fatto che nel momento in cui un cervello cessava di funzionare, la mente continuava per conto suo ad avere la sua sussistenza, la sua vita. E, compresa l'importanza di questo, che avevo già comunque intuito prima, mi sono fornito di tutti praticamente gli atti dei congressi di San Marino, che sono stati una ventina, quindi per una ventina d'anni, proprio sulle esperienze di confine, curati da Fulvia Cariglia, che è una ricercatrice instancabile, eccezionale anche lei, e quindi interventi di ogni tipo, insomma, da scienziati, fisici a storici a religiosi. Io ho cercato di creare una sorta di, come dire, di spina dorsale, no? Che potesse servire per poi arricchire dal mio punto di vista, con quelli che erano gli elementi più importanti, un saggio. Un saggio che però, pensavo che sarebbe rimasto nel cassetto, perché non avevo grosse chance, insomma, di... Invece no. Invece no. E questo grazie a un fisico italo-svizzero, che si chiama Massimiliano Sassoli De Bianchi, e che io devo ringraziare di cuore, veramente, che ha creduto in questo lavoro mio, e l'ha pubblicato come un saggio corposo, in un numero di una sua rivista che si chiama Autoricerca, che scandaglia i temi della ricerca interiore, e quello è stato il modo, insomma, di fissare in qualche modo questo lavoro. Lui ha questa particolarità di essere un fisico rigoroso, ma nello stesso tempo di essere anche molto aperto nei confronti della sapienza, della sapienza in generale, anche della sapienza mistica. Quindi un uomo non comune, che mi ha appoggiato sotto questo punto di vista, io devo essergli grato, veramente, di cuore. E nel 2019 ho pensato di arricchire ulteriormente questo saggio con una serie di note esplicative, andando a vedere i punti in cui si poteva integrare, e è nato questo volume, che è veramente importante, perché sono 656 pagine, con tipo 670 note. Quindi diciamo che vorrei non spaventare di amici, nel senso che se decidessero di leggerlo, possono anche decidere di saltare le note e fare una lecura più scoperta. Certo, sì, sì, sì. Se invece uno vuole approfondire tutto, c'è la possibilità di approfondire un po' tutti i campi, perché io ho cercato di dare delle informazioni dal punto di vista delle teorie scientifiche, che anche se non sono già provate, però comunque sono state avanzate, via via, su questi fenomeni. Un escursus storico, che parte addirittura dai babilonesi e poi gli egizi, stiamo parlando di 3.000 anni fa, per arrivare poi... Stupendo, stupendo. E poi ho cercato di affrontare, da un punto di vista esoterico, parlo dell'entità, parlo del cerchio in Fidenza del 77, il punto di vista parapsicologico, ma soprattutto la fenomenologia di queste esperienze di premorte, perché la cosa determinante sta nelle cosiddette percezioni veridiche o riscontri oggettivi. Spiegacele, dai. Esatto. Succede questo, quando una persona in uno stato di grave crisi premortale perde completamente coscienza e si ritrova proiettata fuori dal suo corpo fisico, quindi in un'esperienza fuori dal corpo, nota una serie di particolari non generici dell'ambiente e quando poi viene rianimata e rientra nel suo corpo, li riferisce e vengono confermati come veri, non soltanto da magari parenti così, ma anche da personale infermieristico e soprattutto medico. I medici non sono molto propensi ad aprirsi, quindi questo è determinante nel battere in breccia le argomentazioni scettiche, perché non esiste nessuna spiegazione plausibile, per cui quando un cervello, perché poi il cervello smette di funzionare in un tempo rapidissimo che va da intorno ai 15-20, massimo 30 secondi, dopodiché la persona non ha più afflusso di sangue cerebrale. Eppure proprio in quei frangenti succedono le esperienze più straordinarie, succede di vedersi fuori dal corpo, le persone che ti rianimano, succede anche di fare dei viaggi, poi dopo oltre il famoso tunnel, in cui vengono incontrati magari familiari che sono deceduti nel frattempo e uno non era al corrente di questo decesso e lo viene a sapere dopo, quindi esistono anche questo tipo di conferme. Quindi penso che sia qualcosa di molto potente. Poi per quello che riguarda metterlo in relazione con altri fenomeni, io ho parlato per esempio dei bambini che rammentano le vite precedenti. Nasce dal lavoro pionieristico di Stevenson, questo grande psichiatra, professore di psichiatria. Questi bambini, particolarità che forse non tutti sanno, presentano spesso o comunque a volte dei segni di nascita che sono corrispondenti dei segni di morte del defunto che sostengono di essere stati, cioè malformazioni, voglie. Quindi anche qui non esistono spiegazioni riduzionistiche per spiegare come un bambino possa incarnare una personalità defunta portando anche su di sé fisicamente i segni di quella personalità. Poi esistono le visioni a letto di morte che sono inversamente proporzionali ai fattori allucinatori, a differenza di quello che si potrebbe pensare. Esiste la lucidità terminale per cui persone con gravi deficit cognitivi riacquistano appena prima di morire la lucidità nel parlare, nel riconoscere i parenti. Allora secondo me si tratta di mettere insieme tutti questi fattori e tutti questi fattori come piccoli tasselli vanno a coprire un puzzle che ti dà una dimostrazione della sopravvivenza, perché poi è di questo che stiamo parlando. Cioè del fatto che la morte fisica non è altro che un transito. Scusami se sono stata un po' torrezione. No, no, assolutamente, anzi guarda io ti sto ascoltando veramente ammirata, ammirata perché veramente c'è tanto, tanto da dire. Mirella dice in seguito a un shock anafilattico mi sono vista dal soffitto del pronto soccorso e da allora non sono più stata la stessa e sono iniziate le obe. Spieghiamo che cosa sono le obe, per chi non lo sa. Certo, allora è un acronimo inglese di Out of Body Experience, che vuol dire esperienza fuori dal corpo, che può essere fatta sia in condizioni di grave pericolo di vita, come nel caso delle NDE, ma anche a volte in maniera spontanea. Cioè ci sono dei ricercatori che asseriscono di riuscire ad avere queste esperienze anche in condizioni, diciamo, certamente di meditazione, eccetera, o di rilassamento, però senza rischio di morte. E mi piace ricordare un caso particolare di una certa Miss Z, è conosciuta così. Miss Z? Adesso questa ragazza, perché di fatto si trattava di una ragazza giovane, durante la notte ha avuto un'uscita dal corpo e è andata a vedere sopra una mensola sopraelevata rispetto al suo corpo, che era collegato a una serie di monitor, tra l'altro, per verificare il suo stato biologico, un numero di cinque cifre. Cioè lei ha identificato un numero che iniziava tipo con 25 mila e qualcosa corretto, verificato come corretto. Questo è un caso in cui naturalmente non si può invocare la casualità perché non si può identificare un numero del genere. Quindi, purtroppo, questi studi non sono ben portati avanti perché non ci sono le risorse. Non ci sono le risorse, i medici non sono molto incentivati, perché sappiamo che c'è anche un'aura, purtroppo, di derisione, di difficoltà di essere accettato di una scienza ufficiale. Però questo è, tra l'altro, questo fatto di Mirella, io lo sto prendendo adesso. Io non sapevo che lei avesse avuto questo tipo di esperienza. Io qualcosa sapevo di lei. Però lei dice, a me non piace uscire, ho paura e ne hanno imparato a trattenermi. Quindi la paura di perdere il controllo, forse, di trovarsi fuori, è anche l'idea di dire dove vado, non torno più indietro. C'è questa possibilità? Certo, ma dunque dovrebbe essere molto remota, per la verità, perché si è sempre legati da una sorta, si chiama perispirito, no? Cioè, è una sorta di veicolo eterico che ti collega sempre al corpo fisico, anche se tu te ne vai a fare dei viaggi in astrale. E la possibilità che venga, come dire, tranciato è molto remota. Comunque sia, ecco, voglio dire, se uno si rende conto di stare fuori dal corpo e che quindi non è il suo corpo, forse non dovrebbe neanche avere paura più della morte di quel corpo. Cioè, io sono fuori da quel corpo, quindi non... però capisco che da un punto di vista emozionale ci possa essere questa difficoltà, insomma, perché un conto è accettare la morte così, diciamo, intellettualmente, e un conto è fare un'esperienza. Perché questa è un'esperienza che ognuno di noi potrà fare direttamente, no? E questa cosa può capitare anche durante la notte, dormi, ti trovi in una situazione particolare e non ti accorgi? Può succedere durante il sonno, anche specialmente durante il sonno leggero, ci sono le cosiddette paralesi notturne, in cui la persona sente di non riuscire più a muovere il suo corpo, quindi è uno stato anche di disagio, però dopo una sorta di tremito può ritrovarsi sbalzato fuori dal corpo. Per esempio, Moro, che era un uomo da fuori, quindi non era nemmeno un mistico, eccetera. Dicevo, un giorno mi ritrovai sul soffitto e vedevo un uomo accanto a mia moglie. Dico, cosa ci fa questa macchina moglie? Andando a vedere bene, era lui. Era lui. Mi rese conto che era lui. E quindi sono cose anche divertenti, se vogliamo. E da lì poi lui ha cominciato a cercare di portare avanti uno studio per agevolare queste esperienze, con una serie di suoni, i battiti binaurali. E quindi esiste un istituto che porta avanti queste ricerche, attraverso le quali, per esempio, la tanatologa, come si chiamava quella famosa, prima ancora di Moody, ora mi sta sfuggendo il nome, comunque lei, per esempio, attraverso l'istituto Tomorro, ha avuto una esperienza fuori dal corpo. Quindi è possibile, è possibile ottenere questo tempo. Allora dice Mirella, se viene tranciato questo vero spirito, cosa succede? Quindi questo, come lo chiamiamo, anche cordone lo chiamano, cordone d'argento lo chiamano anche. Se viene tranciato... Diciamo, ti ritrovi disincarnato, ti ritrovi effettivamente, tra virgolette, morto. Però, in realtà, poi ti ritrovi in un ambiente che ti permette di incontrare i tuoi cari, prima di tutto, come succede nelle esperienze di premorte. Ti permette di incontrare una guida, una guida che ti permette di rivedere un po' anche l'esistenza che hai vissuto. Perché poi c'è anche questo, no? La rivisitazione della propria esistenza. Tra l'altro l'interessante è che tu la vivi emozionalmente dal punto di vista del tuo prossimo. Cioè, se tu hai fatto del male a qualcuno, tu senti il suo dolore. E se tu hai fatto del bene a qualcuno, tu senti la gratificazione di questo tuo comportamento. Bello. Quindi facciamo cose belle per gli altri. Quando facciamo cose belle per gli altri, anche minime, anche magari piccoli gesti che ci sembrano non importanti, invece vengono considerati molto. Bella, bella questa. Poi comincia questo viaggio che può essere... Qui ci sono varie teorie. C'è chi dice che si rimane in un mondo astrale fino alla reincarnazione. C'è chi dice che si entra invece in un mondo più astratto in cui non c'è più l'esternità dei sensi, ma ci si interiorizza in una maniera così profonda che poi si entra in relazione con l'esterno in una maniera diversa. Poi se Andrea ci dice una cosa di questo genere. Andrea è l'entità... Allora diciamo questo. Allora, faccio un breve sunto. Qualcuno sa chi è, tanti no. L'entità A, cosiddetta, detta Andrea, adesso ci spiego un attimino da dove e come nasce proprio, come nascono queste, come possiamo dire, delle incorporazioni che avvenivano a questo grande Piancastelli, no? Grande, grandissimo. E sono durate tantissimi anni queste comunicazioni. Raccontaci un po'. Allora dunque, queste comunicazioni sono iniziate nel 1945 quando Corrado Piancastelli aveva 15 anni, perché lui era del 1930, e sono proseguite sino al 2014, che è l'anno in cui lui ha trapassato, e quindi sono praticamente 70 anni di comunicazione. Allora diciamo che erano 4-5 ragazzi che si erano trovati cercando di mettersi lì e fare delle sedute spiritiche, giusto? Inizialmente era nato così. Un po' per curiosità, forse un po' anche per gioco, no? Per gioco, sì. E poi invece è diventata una cosa seria perché Corrado Piancastelli improvvisamente una volta comincia a parlare con un'altra, va proprio in trance, e comincia a parlare con una voce completamente diversa, giusto? Una voce strutturalmente diversa, esatto. Allora dunque, questo è uno degli studi, perché poi c'è da dire che il medium, c'è di solito molta diffidenza nei confronti quando si parla di medium, ma qui stiamo parlando di una figura che è stata investigata scientificamente per mezzo secolo. Mezzo secolo per cui tra l'altro lui ha tenuto anche l'anonimato, cioè non si sapeva neanche chi fosse, quindi non aveva nessun interesse. Ecco, allora che succede? La parte più importante, dal mio punto di vista, dello studio su Piancastelli avviene nello studio elettrocefano grafico. Cioè praticamente è successo che da un punto di vista universitario durante la trans è stato studiato il ritmo EEG di Piancastelli, che presentava un tracciato di onde alfa, che è il tracciato del rilassamento e che comunque non è compatibile con una, come dire, cogitazione profonda, con un'argomentazione molto articolata, come quella che portava avanti Andrea. E quindi questo dimostra che quando Andrea parlava, Corrado non stava pensando. Questo è un fatto determinante. Poi l'analisi... Anzi, Corrado dorme russa, perché nelle reno... Allora ci sono registrazioni, le trovate? Se andate su YouTube anche, trovate tante registrazioni della voce di Entità A, mentre sotto si sente proprio russare di Corrado. è fenomenale. Lui in realtà dormiva. Sì, sì, dormiva. Non sapeva nulla di quello che accadeva. Di un sonno medianico. E comunque strutturalmente queste voci sono state studiate dallo studio Ferraris di Torino, che studiava anche le perizie giudiziarie, ed è stato dimostrato che sono voci strutturalmente diverse. e non potevano essere espresse neanche, diciamo, con una sorta di imitazione, perché Corrado aveva un profondo stress cardiopressorio durante queste transe. Quindi lui non era in una condizione di tranquillità in cui poteva controllare il fenomeno. E questa è una dimostrazione in più della genuinità del fenomeno. Altra cosa importante, l'analisi linguistica comparata, che è un metodo che viene usato anche questo nelle sperimentazioni giudiziarie, eccetera, e che ha una valenza che più o meno può essere equiparata all'impronta digitale. Allora, tra i fonemi utilizzati sia da Corrado che da Giorgio di Simone e invece da quelli di Andrea, c'era una sorta di abisso. Cioè, stiamo parlando di circa 2000 fonemi per gli umani e più di 9000 per lo spirito. Quindi, altro elemento. Vedi, tu, quindi, voglio dire, tutto quello che era possibile fare è stato fatto per dimostrare l'autenticità e l'importanza di questo fenomeno. E poi, dentro questo, viene quello che Andrea ci dice. Sì. Che è anche determinante, no? Cioè, lui è anche molto, diciamo, molto diretto, no? Molto, molto diretto, crudo, oserei dire, anche. Anche crudo, cioè, non è una medianità che è consolatoria. L'acqua di rose, no? No, chi cerca questo si deve rivolgere altrove. Lui, anzi, cerca di relegare la condizione umana a quello che è. Cioè, è una condizione veramente molto contingente e dice, non date troppa importanza, insomma, a questa situazione che state vivendo perché è assolutamente transitoria e quello che conta è lo spirito. Ma, la condizione umana, però, permette, praticamente in ogni caso, di fare l'esperienza della materia che, alla fine, permette di acquisire il principio di materialità che è il motivo per cui noi siamo qui. E questo, praticamente, diciamo, riusciamo tutti a farlo. Cioè, anche chi sembra che non combini niente, in realtà, però, l'esperienza della materia la fa. per cui, la nostra vita non è mai inutile, se vuoi. È utile, è utile ai fini dello spirito, ai fini dello spirito che se ne serve per conoscere, per evolvere in un'evoluzione che ci dice Andrea che è eterna, che non avrà mai fine. E questa è una prospettiva grandiosa per noi. andremo sempre a crescere, andremo sempre a crescere, e quindi a stare sempre meglio, anche, da un punto di vista... È un'evoluzione continua, lo spirito che continua ad evolversi, no? è infatti, che secondo me è anche molto più sensato dell'idea che invece lo spirito si ricongiunca con Dio, perché se si dovesse ricongiungere con Dio ci si dovrebbe chiedere per quale motivo ne sia uscito all'inizio, cioè per fare tutto un percorso per poi tornare allo stato di partenza. E anche immaginare che Dio si debba, come dire, elevare integrandosi con delle esperienze spirituali, sinceramente non mi suona molto come idea. Cioè trovo che Dio sia assoluto e quindi non abbia bisogno di noi. Siamo noi come scintille che abbiamo bisogno di Lui e che ci ha dato modo di esperire la grandiosità del reale attraverso l'emanazione. Tutti questi concetti che Andrea ci regala piano piano ci danno un quadro chiaro e esauriente e secondo me anche molto rasterenante. Molto, molto. A lui fa per spiegare ecco chi non conosce veramente la dottrina di Andrea perché veramente è una dottrina veramente è una cosa stupenda. A lui fa una divisione veramente il corpo anima e spirito. Esatto. Che cosa dice rispetto a questo? Dunque praticamente questa triade si costituisce della realtà materiale che succede questo cioè praticamente inizialmente Dio ha una duplice emanazione un'emanazione materica e un'emanazione spirituale. Dopo di questo lo spirito sente l'esigenza di entrare in relazione di conoscenza con la materia perché è una cosa molto distante dalla sua realtà e quindi ha bisogno di conoscerla proprio per accrescere questa potenzialità di conoscenza assoluta che ha dentro di sé e che sviluppa in varie tappe di cui la materia è una poi proseguirà con l'acquisizione della spiritualità della divinità eccetera. Che succede? Allora la parte materiale che ha uno sviluppo in qualche modo anche autonomo appunto lo spirito che ha questa energia invece straordinaria e anche indefinibile con i nostri parametri di conoscenza scientifica attuale sente l'esigenza di entrare in relazione con questa materia appunto per conoscerla nel migliore dei modi e si serve allora di questo strumento che è l'anima o il complesso animico o il veicolo animico che è una sorta di tramite che viene normalmente definito bio-psicoenergetico nel senso che c'è l'energia vitale l'energia mentale e l'energia diciamo della sostanza della realtà che è più greve se vogliamo e permette quindi un contatto più più forte e più avvinghiante con la materia col corpo fisico questo è il famoso cordone d'argento che poi lega al corpo etereo ai vari corpi sottili delle tradizioni esoteriche metafisiche perché poi abbiamo il corpo astrale il corpo emozionale il corpo mentale il corpo causale e poi arriviamo a questo corpo spirituale che sta in cima a questa graduatoria se vogliamo e l'anima l'anima è un modo sintetico di esprimere questi corpi sottili che permettono allo spirito di entrare in reazione con la fisicità questo è come dire l'esplicitazione di questa triade di cui noi siamo costituiti e in questo momento noi viviamo la polarità coscienziale dell'essere fisico ma questo non significa che la nostra polarità non possiamo mutare da un momento all'altro come abbiamo visto ad esempio a conseguenza di un arresto cardiaco certo come nell'esperienza di premorte diciamo quindi l'anima è quella che in effetti lo spirito fa esperienza nella materia ma c'è quest'anima che dovrebbe fare da tramite in effetti no? è l'anima che poi porta l'esperienza allo spirito esatto l'anima è quella che trattiene le esperienze materiche per un ciclo di incarnazioni che per esempio possono essere terrene e che Andrea ci dice che variano intorno alle 25-30 dopodiché questa conoscenza passa essenzializzata allo spirito e l'anima viene abbandonata come una specie di veramente di guscio a quel punto inutile che ripete mantiene degli automatismi di quello che ha conosciuto ma che non ha più l'io cioè la singolarità che ancora esiste che sopravvive rimane nello spirito e si porta dietro però tutto quello che l'anima le ha permesso di conoscere il bagaglio animico passa allo spirito e lo spirito poi continua quindi ad andare avanti con le sue esperienze ulteriori entità parlava anche dell'esistenza di altri mondi di esperienze anche di incarnazione su altri mondi su altri pianeti certamente lui diceva che era possibile fare esperienze anche però sosteneva questo dice io non vi voglio parlare di cose che non vi posso argomentare in maniera razionale perché mi sembrerebbe di raccontarvi delle favole però certamente nel mondo noi pensiamo soltanto al nostro universo che conta non so se 250 miliardi di galassie quindi voglio dire le possibilità di vita sono sono sconfinate quindi sicuramente c'è la possibilità di fare questa esperienza altrove e forse c'è anche la possibilità di combinare l'esperienza sia qui che anche in altri mondi ecco quindi c'è questa questa simultaneità no? la possiamo chiamare delle incarnazioni multiple multiple al momento presente multiple al momento presente perché in realtà l'idea del tempo che scorre sarebbe una sorta di illusione cioè esisterebbe un piano akashico come viene normalmente definito dalla realtà o anche piano divino in cui tutti gli eventi passati presenti futuri sono già avvenuti contemporaneamente e quindi noi abbiamo come l'impressione di transitare su diciamo sfogliare le pagine di un libro che però esiste già tutto il libro che noi andiamo a sfogliare e quindi anche le incarnazioni che noi abbiamo l'impressione di vivere una di tra l'altra con causa collegata con l'effetto sarebbero in realtà tutte contemporanee ma di questo noi potremmo renderci conto soltanto da un dato punto di evoluzione in poi anche questa è una teoria molto interessante sono cose molto importanti cioè qui ci vorrebbero tante tante dirette per poter parlare veramente di Entita Andrea e poi dovremmo parlare anche di Bacci però io ti inviterei a un'altra diretta con me magari se ce la fai fra 15 giorni continueremo poi questa diretta e magari possiamo dedicare tutto anche a Bacci perché c'è proprio tanto da dire non solo ma poi per me lui è una figura quasi paterna insomma senza togliere nulla a Marco che è il figlio reale perché per me è come un fratello però veramente Marcello per me è stata una figura determinante determinante perché al di là dello studio poi quando tu i fenomeni li vivi personalmente questo ti crea uno scarto un feed in più di consapevolezza e di di convinzione che ti dà una una spinta diversa insomma anche se poi i problemi restano e difficoltà ce l'abbiamo siamo umani voglio dire però vivere certe esperienze ti cambia nel profondo raccontaci un po' queste tue esperienze ma la radio dunque partendo dalla radio lui si collegava sulle onde corte ricordiamo che stiamo parlando di bacci adesso stiamo parlando di un grande lo chiamiamo era un medium certo possiamo definirlo un grande medium perché la sua metafonia era un qualcosa di sconvolgente e tu adesso ce lo spiegherai assolutamente medianico sì dicevo lui si collegava una vecchia radio a valvole sulle onde corte dove praticamente non esistono stazioni italiane cioè è praticamente impossibile cogliere qualcosa di italiano e comunque lui su queste bande cercava una portale vuota cioè una sorta di fruscio di rumore bianco dove non c'era nessuna stazione di collegamento dopo un tempo variabile che poteva essere dieci minuti un quarto d'ora venti minuti si cominciava a sentire un fruscio ancora più forte e cominciavano ad entrare queste voci queste voci che dunque innanzitutto parlavano di argomenti spirituali e quindi non è possibile pensare che potessero essere colte casualmente in qualche modo si rivolgeva alle persone presenti molto spesso genitori che avevano perso dei figli e si rivolgevano a queste persone anche con nome con cognome a volte udibile anche in maniera molto chiara quindi le spiegazioni dei scettici di pareidotilie o voci captate casualmente non hanno nessuna ragione di poter resistere in qualche modo è vero è vero perché ci sono delle registrazioni ancora oggi che lì è una botta e risposta esatto c'è proprio anche la botta e risposta e alcune sono chiare come stiamo parlando noi cioè io mi ricordo anche penso l'ultima seduta risalente intorno al 2016 e quindi 50 anni dopo l'inizio perché noi cominciavano nel 66 e c'erano delle voci chiarissime insomma poi c'era anche un tavolo medianico che è una cosa che molti non sanno ecco io non lo sapevo ecco infatti un tavolo medianico che reagiva in una maniera impressionante perché tu ti puoi immaginare un tavolo di massello di legno veramente pesante notevole con le mani appoggiate a catena che lo sferavano solamente e che sbatteva come un fuscello da una parte all'altra con una forza io ti dico boom 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 noi partivamo dal centro della stanza e arrivavamo fino in fondo alla parete con la moglie Marina che tutti non sanno che è una medium anche lei che praticamente si strozzava incorporando queste voci in trance perché erano quindi in modo sospesso un macello doveva con la moglie le incorporava anche la moglie la moglie in trance incorporava delle voci esatto diciamo anche solo la moglie lui invece si è sempre rifiutato di andare in trance perché ha sempre voluto mantenere il controllo della situazione mentre Marina la moglie invece aveva anche le trance che erano veramente impressionanti poi cambiava completamente voce voci cristalline voci di bambini però al di là di tutto questo quello che a me ha colpito di più e che mi ha stravolto la vita sono gli apporti gli apporti quindi ancora più che no alla radio e io te ne posso raccontare due sì in uno noi eravamo uno accanto all'altro che chiacchieravamo nel suo ufficio dietro casa sua come capitava spesso di fare tranquillamente chiacchieravamo da più di un'ora a un certo punto squilla il telefono lui risponde è la madre di uno di questi ragazzi che venivano alla radio e io dopo pochi secondi sento proprio flop mi sento un flop da sopra e da un'altezza di circa tre quarti di soffitto mi si materializza una pietra nobile che mi passa davanti alla faccia in questo modo così perché per poco non mi prende in faccia e che rotola a terra probabilmente io non sono un esperto di pietre però probabilmente era un onice perché era una pietra levigata scura di circa due centimetri per tre questa è la dimensione lui tutto tranquillo mi passa il telefono mi dice ecco diglielo io prendo il telefono e dico signora guardi si è successo questo e lei mi fa si si lo so è normale e questo mi ha colpito tantissimo un'altra volta in un esperimento eravamo sedici persone lui era girato di spalle che armeggiava con la radio piena luce piena luce questo come anche piena luce quello dell'onice c'è una donna che a un certo punto chiede a una ragazza ma tu sei su della miatra come ti chiami di cognome questa ragazza risponde paradisi appena dice paradisi trum un cuoricino d'argento che dal nulla cade dal soffitto casca per terra questo cuoricino che poi era argentato ma era di plastica non era una cosa di valore sì questa donna che si chiama Angela Manzoni così almeno perché è anche importante dire che ci sono persone che possono testimoniare quello che testimono io mi ha passato questo cuoricino e me ne ha fatto d'oro allora tu capisci che io ho cercato anche di provare a vedere come potrebbero essere interpretati in maniera diversa questi fenomeni sì perché c'è chi parla di gusci astrali di residui animici che reagiscono in maniera automatica alla nemicità dei viventi sì però se questa fosse la spiegazione io mi sono detto quando questa nemicità dei viventi si attiva dovrebbe attivare sempre questi automatismi energetici animici che dovrebbero produrre questi fenomeni e invece non è così non è così perché la maggior parte delle volte non succedeva niente però la situazione ambientale era la stessa era praticamente identica e allora io mi convinco che c'è uno scarco che c'è un quid che c'è un'intelligenza una volontà invisibile superiore che per me è quella di questi ragazzi che venivano per i genitori io non ho un'altra spiegazione migliore se qualcuno riesce a fornirmela io sono disponibile a mettermi in discussione non sul fenomeno perché il fenomeno non ero solo l'ho vissuto insieme con altri e quindi non ho dubbi su quello che ho visto ma anche sull'interpretazione sinceramente io mi sembra abbastanza convincente quello che ho cercato di sintetizzare in due parole adesso quindi capisci che si è un po' fermata la tua immagine Andrea che si immaterializzano dal niente e tu capisci che c'è un'altra realtà c'è un'altra realtà veramente queste sono le realtà parallele cioè io credo che c'è proprio un filo sottile che ci unisce a queste altre dimensioni esatto e che si spera che la scienza possa riuscire in qualche modo a scadriare perché già esiste il cosiddetto vuoto quantistico che ha una potenzialità energetica assurda impressionante e questo lo dice anche già la fisica quindi nulla vieta che da questa potenza incredibile possano essere generati anche questi fenomeni che sono stati testimoniati nel corso della storia da tantissime persone anche da scienziati come Richet come Crookes insomma voglio dire non si può pensare che siamo tutti deficienti o allucinati che ci inventiamo qualcosa che non è successo insomma non è credo che sia profondamente insultante un atteggiamento di questo genere è vero è vero e per quanto riguarda anche l'origine degli apporti ci sono anche delle cioè qualcuno pensa anche che un qualcosa una traslazione da una parte all'altra di materia ma sicuramente cioè la spiegazione è quella che questo oggetto viene preso da qualche parte dove esiste già viene portato giù normalmente sì anche se per esempio nel cerchio esseno che è stato un importante cerchio medianico di Roma l'entità raggio che era un'entità importante che veniva ha affermato che volendo loro li possono anche creare cioè possono anche crearli dal nulla dal nulla tra virgolette chiaramente questi oggetti però normalmente sì normalmente sono cose che vengono prese da una parte e portate dall'altra per esempio una macchinina rossa di un bambino che era morto e che veniva alla radio si è materializzata durante la seduta di baci e questa macchinina rossa stava su una mensolina della camera del bambino quindi voglio dire i genitori l'hanno testimoniato questo i coniugi del chicca che avevano un figlio che era morto durante delle immersioni subacquee avevano degli apporti di coralli coralli rossi coralli bianchi per cui tutti oggetti che poi in parte sono stati donati ai legittimi proprietari cioè ai genitori e in parte non è rimasto anche a macello che aveva una sorta di cassetta piena di tutti questi oggetti che a vederli così magari non ti dicono niente ma se ti rendi conto di come sono venuti fuori dicono tanto dicono tanto questo mi fa pensare mi riporta la mente anche un po' a a Gustavo Rollo quando aveva queste come chiamano materializzazioni cioè arrivavano queste cose e nel caso suo lui addirittura era in grado di provocarle anche volontariamente molto spesso anche se poi lui diceva ma io non mi devo venire spontaneo non posso preordinarlo il che era vero in parte sicuramente però in parte la sua potenza era tale che aveva anche la possibilità di determinarli volontariamente questi fenomeni infatti è un peccato che si sia mantenuto questa distanza con la scienza cosiddetta scienza ufficiale che poi molto spesso ha dei pregiudizi scientifici e che non ha permesso di aprire una strada una strada di conoscenza che ci farebbe stare meglio tutti perché poi a questo punto cioè una scienza che non serve alla nostra umanità senza regalarci illusioni ma dandoci la testimonianza di cose reali e straordinarie è una scienza che rischia di essere limitata in se stessa ed è un peccato un grosso peccato che cosa veramente che cosa ti porti dentro di questa esperienza Gobacci e cosa ti ha formato cioè che cosa anche hai appreso hai imparato e che cosa veramente ti è rimasto dentro perché è una bella esperienza la tua certo ma io mi sono convinto veramente che non c'è la morte cioè io non ho nessuna paura della morte ma lo dico lo dico con con grande sincerità perché sembra sempre che siano frasi che uno butta lì no? però anche il lavoro sulle esperienze di premorte mettere punto su punto tutti quei tutti quegli eventi dargli una logica dargli un senso dargli un filo anche quello mi ha modificato interiormente cioè tutti questi fenomeni un po' Andrea che la sua persuasione tu mi dicevi ma io spesso me lo sentivo anche prima di addormentarmi no? sì sì è vero 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 anche io ho aumentato con la sua persuasione che poi c'è anche quel timbro di voce particolare un po' barese sembra no? sì molto 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 particolare no? sì inconfondibile e peraltro non è anche immaginabile perché io non riesco a figurarmelo non è una persona così esatto rimane questa voce così folgorante che ti argomenta poi con una forza dialettica che ti annichilisce cioè alla fine si è costretta a dire è vero quello che sta dicendo è vero e quindi è una forza concentrica che ha agito su di me un po' i fenomeni fisici un po' la medianità intellettiva un po' lo studio delle esperienze di confine io alla fine mi sono dovuto arrendere mi sono dovuto arrendere perché io all'inizio sono stato anche agnostico per diversi anni dopo la prima adolescenza la crisi dell'educazione cattolica e quindi la ribellione io andavo a scassare le scatole ai preti agli psicologi cercavo risposte da tutti e non mi soddisfacevano mai quelle di nessuno invece piano piano quasi in maniera incredibile anche per me stesso alla fine mi sono dovuto convincere che mi sono ritrovato una persona spirituale quasi senza volere quasi spontaneamente di fronte a tutti questi eventi che lì per lì potevano essere classificati anche come contingenti però invece in realtà hanno lavorato molto dentro di me fino a che poi alla fine mi hanno trasformato in uno spiritualista che è quello che sono detto e quindi per me morire è un tornare a casa veramente cioè lo vivo con grandissima tranquillità non mi dà nessuna preoccupazione e credo che questo un conto è dirlo intellettualmente un conto è essere persuasi veramente essere persuaso entri in una dimensione in cui veramente poi alla fine nulla ti può far male sì nulla ti può ferire perché peggio della morte cosa ti può succedere normalmente si dice niente e invece la morte è un evento bellissimo e non lo dico soltanto io ma lo dicono le centinaia le migliaia di testimonianza di quelli che sono tornati no? sì dovrebbero insegnare anche questo no? ai nostri bambini a scuola dovrebbero insegnare che la buona morte è perché magari un'ora soltanto a settimana di spiritualità che magari sostituisca anche la religione no? perché poi le religioni hanno i loro aspetti sicuramente anche importanti interessanti possono essere studiate però c'è bisogno oggi di una raffinatezza diversa insomma c'è bisogno di risposte non non così elementari come la religione tendeva a dare a una popolazione che non aveva gli strumenti per farsi delle domande molto complesse oggi è così oggi non ci accontentiamo più di risposte semplici e sarebbe importante che fin da bambini ci fosse una formazione di questo genere filosofica psicologica spirituale pedagogica se qualcuno ci potesse ascoltare sarebbe bello veramente sarebbe bello sì sarebbe bello sì ti volevo chiedere rispetto sempre a entità Andrea lui parla dei programmi dello spirito nel momento in cui si incarna ha un programma ne vuoi parlare di questo programma per chi non conosce è bello poter dare qualche informazione certo c'è anche questo aspetto che normalmente noi pensiamo che quello che ci succede sia il frutto di sfortuna di eventi casuali avversi non è così non è così perché noi decidiamo prima di nascere quella che è la nostra incarnazione la nostra esistenza soprattutto nelle sue direttive fondamentali quindi negli eventi più importanti ma per certi versi anche negli eventi particolari ora qui poi chiaramente le teorie sono diverse lui ci dice che esiste anche la possibilità diciamo nella nella statistica dei grandi numeri possono succedere anche degli inconvenienti che non erano previsti dallo spirito però fondamentalmente le cose che succedono succedono perché lo spirito le ha previste prima di nascere in concomitanza con altri spiriti che poi si troveranno ad avere una relazione con lui in terra quindi se muore un ragazzo se muore un bambino non c'è un'ingiustizia io capisco che dire questa cosa è terribile e un genitore probabilmente non può accettare però è la verità cioè la morte giovane è una cosa prevista le persone che restano avevano previsto di affrontare questo tipo di prova di prova così terribile per cui quello che vorrei riuscire a comunicare sappiate che non c'è ingiustizia sappiate che siamo noi stessi gli artifici del nostro destino e questo è quello che mi sembra che Andrea ci insegna e che noi dovremmo riuscire anche a trasmettere a chi invece è così arrabbiato perché c'è anche molta rabbia oggi si percepisce molta rabbia nei confronti della vita come se tutto fosse così ingiusto invece non è non è così non è così se tu riesci a inquadrare le cose nella maniera più ampia come io ho cercato di accennare prima capisci che non c'è ingiustizia la giustizia è la giustizia dello spirito non è la giustizia dell'uomo ed è però è quella che conta è quella con cui ci ritroveremo e che ci appartiene nella maniera più profonda e più autentica anzi oserei dire l'unica vera che abbiamo a disposizione sì è così lui diceva anche dimmi abbiamo quasi esaurito il nostro tempo però questa domanda lui diceva anche che durante la nostra vita come tu anche hai detto è possibile che quel programma originario che noi abbiamo fatto da spiriti per una serie di ostacoli per una serie di deviazioni di strada di vita noi non ci atteniamo a quel programma cioè facciamo delle scelte per cui deviamo quel programma io mi chiedo veramente questa è una cosa che mi sono chiesta spesso no come faccio veramente a capire qual era poi veramente il mio programma questa è una domanda è una domanda che gli hanno posto più volte anche in seduta e lui dice che noi non abbiamo gli strumenti per renderci cotto adesso di qual è il nostro programma incarnatorio perché altrimenti ce lo ricorderemmo alla nascita quindi se il programma del programma è quello di non ricordarlo non lo possiamo ricordare però anche se magari noi deviamo da quel programma originario possiamo fare come dicevi tu esperienze altrettanto utili se non addirittura anche più utili e a questo attiene il ruolo dello spirito guida che non è che ci guida come dei bambini passo passo con la mano nella mano ma cerca di farci rimanere in un orizzonte di esperienze che in una maniera o nell'altra ci possa essere utile una volta che ci disincanneremo e non ci dimentichiamo che comunque l'esperienza della materialità anche se sbagliamo tutto quello che avevamo preordinato quella perlomeno la facciamo insomma già l'esperienza della nascita e l'esperienza della morte sono delle esperienze molto forti per lo spirito molto istruttive quindi non veniamo sulla terra per niente questo ricordiamocela non veniamo sulla terra per niente diceva anche una cosa Andrea diceva anche meglio ci a volte conta di più la vita di qualcuno che fa tanti errori anziché un ignavo che non fa proprio nulla questo è anche un aspetto rivoluzionario della sua dottrina che va un po' ma anche in contrasto con il fatalismo orientale che tende a mettersi lì ad aspettare che gli eventi avvengano no lui ci invita ad essere attivi ci invita a dire effettivamente dice preferisco uno che sbaglia a uno che non fa niente perché siamo qui per farle le esperienze poi se facciamo delle esperienze tra virgolette sbagliate le compenseremo col karma cioè con altre esperienze analoghe e opposte che ci permetteranno di tornare sulla retta via però l'importante qui è fare qualcosa perché siamo venuti per questo se no rischiamo veramente di portarci di là poco non dico niente però poco questo sì sì allora noi abbiamo finito quindi sono le 21 e 30 io allora intanto ti ringrazio perché per me è stato veramente un grande onore averti qui e ci tornerai dimmi che ci tornerai ci organizziamo perché dobbiamo parlare tanto quindi c'è tanto da dire questo è importante perché questa io credo che sia anche la tua missione lo spero sarebbe bello poter dare un contributo sì lo faremo torneremo ci accorderemo adesso vedremo un po' prenderemo accordi e intanto ti ringrazio di esserci ringrazio e saluto tutte le persone che in questo momento sono qui presenti ci ascoltano non abbiamo potuto leggere quello che ha scritto ma lo leggeremo dopo tu puoi andare anche tu sotto e dare delle risposte sulla su bridge quindi abbiamo sforato quindi di un minuto e quindi allora ciao a tutti ciao carissimo e a presto a presto grazie dell'opportunità un bacio un bacio a te